La società di produzione cinematografica Nuova Media Italia di Michele Calì al Festival del Cinema di Venezia ha presentato fuori concorso il film Un angelo all'inferno del regista Bruno Gaburro, tra l'interprete Giancarlo Giannini. Il nuovo lavoro di Gaburro, quarto della serie, già prodotto a sfondo sociale, tratta il tema delle dipendenze. Le precedenti produzioni hanno riguardato la donazione degli organi, l'alcolismo e la salute mentale. La nuova pellicola gode della partecipazione delle ULS del Veneto, capofila all'ULS 20 di Verona, e l'azienda ospedaliera Scaligera e di Padova. Il film viene realizzato con il contributo della Regione Veneto, in particolare degli assessorati alle politiche della salute e del sociale. Questo film vuol raccontare un tempo nuovo delle dipendenze. Vuol parlare alle famiglie, vuol parlare ai giovani. Vede, 30 anni fa il tossicodipendente di eroina era visibile, disturbava anche la società perché rubava la radio nelle macchine. Perciò oggi ci sono dei ragazzi inseriti normalmente nella società che però il sabato e la domenica hanno la dipendenza dalla pastiglia, dalla discoteca, dal locale. Vede, questo è gravissimo perché oggi la famiglia sembra di non avere un problema, invece sarà un grande problema domani per questo ragazzo che arriverà presto alla disabilità per la famiglia e per la società. Il film mette in evidenza la drammaticità delle conseguenze sui figli di alcune situazioni di disagio in ambito familiare, coniugale e adolescenziale, dove per pudore o per vergogna vengono ignorate le competenze e le professionalità delle strutture sociosanitarie presenti sul territorio. Il film, in ultima analisi, rappresenta un veicolo di informazione soprattutto per quanto riguarda la dipendenza dalle droghe. Certo, perché rappresenta la parte negativa della dipendenza e la parte positiva della buona vita. E allora spiegare questo ai giovani, prevenire è sempre meglio che curare. La droga è cambiata, sono cambiate le droghe, è cambiata la cultura, adesso dobbiamo parlare molto con i giovani, che la buona vita non è quella della droga.